Buonasera, allora ho saputo adesso che c'è una polemica nata a Reggio Calabria perché io ho mandato a fine partita a fare in culo alcune persone, è vero, però mi scuso con tutti i calabresi che forse hanno capito male, anche le persone di Reggio in particolare, io ho mandato a fare in culo quel gruppo di persone che ha urlato bandecchi coglione vai a casa e siccome in tribuna c'era tanta gente, tanta gente ha sentito questa persona che ha urlato ben cinque volte bandecchi coglione vai a casa prima che io lo mandassi a fare in culo facendo questo gesto, ora detto questo cari signori, non è che io sono andato per essere mandato a fare in culo dall'ultimo dei coglioni che siccome ho pagato 20 euro di biglietto si sente un fenomeno, se mi danno nome e cognome io me lo comprerei vivo il signore, chiedo scusa a tutti gli altri ma quel signore può ricontinuare ad andare a fare in culo per quanto mi riguarda, chiarita da Polemica, buona serata!